I trattori arrivano in fila all'appuntamento a Bivio Colmone, da dove ogni anno il primo maggio si ritrovano tutti i mezzi agricoli della zona di San Severino Marche per partecipare alla tradizionale benedizione. Da qui infatti parte la sfilata fino alla chiesa di Santa Maria Assunta a Cesolo, dove si svolge la messa e la benedizione dei mezzi agricoli in occasione della festa dei lavoratori. Una cerimonia diventata ormai un appuntamento fisso del primo maggio per gli abitanti della zona ma non solo. È una tradizione che noi facciamo tutti gli anni per festeggiare in effetti il primo maggio, per festa dei lavoratori. Ovviamente tutta la benedizione dei mezzi agricoli è stata voluta dal Vaticano dal 1900, se non ero, dovrebbe essere del 65. Dopo la messa è stata deposta una corona di alloro sul monumento che ricorda i caduti sul lavoro. Un modo per ricordare chi ha dato la vita lavorando e per ribadire l'importanza del lavoro nella vita quotidiana. Ma anche una tradizione con cui San Severino Marche rinnova il legame con la sua origine rurale. Noi la frazione di Cesolo ma anche come tutta la comunità di San Severino Marche è prettamente agricola. Quindi la benedizione è fondamentale e ancora riusciamo a mantenere questa tradizione.